Le proteste si allargano a macchia d'olio in Iran, dove per la quinta notte consecutiva i manifestanti sono scesi in piazza dopo la morte di Masha Amini, la 22enne kurdo iraniana arrestata dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo e deceduta dopo tre giorni di coma per via di percossa e maltrattamenti. Dall'alto commissariato ONU per i diritti umani si è invocata un'indagine rigorosa sull'accaduto sul quale Teheran continua a negare ogni irresponsabilità attribuendo il decesso a un improvviso malore. La tragica morte di Masha Amini e le accuse di tortura e maltrattamenti devono essere indagate in modo rapido, imparziale ed efficace da un'autorità indipendente e competente che garantisca alla sua famiglia l'accesso alla giustizia e alla verità. Ben 15 le città interessate dalle proteste dell'ultima notte, tra le quali Teheran, Tabriz e Mashaad, i manifestanti hanno incendiato cassonetti e veicoli della polizia lanciando pietre contro le forze di sicurezza che hanno reagito con lanci di gas lacrimogeni e numerosi arresti.